serve Silva Reis, un po' di spiazzo, riesce a girarsi, Silva Reis prova al destro e palla fuori che è simile alla sinistra di testa parte Sacenti, pallone per D'Agostini e la palla fuori, illusione ortica del gol sull'esterno della rete attenzione ma l'Omo viene saltato da Prete, ancora Prete il tiro, Pazzagli gli dice di no poi sempre Prete che tocca all'indietro per Piccioni il tiro, palla fuori, rischio per il Prato tuttavia il pallone Galli, poi interviene deciso D'Agostini che viene ammonito, viene ammonito per la seconda volta e viene espulso D'Agostini che si arrabbia, riteneva di essere entrato sul pallone espulso anche l'AM, è stato espulso anche l'AM Varutti, prova al botto, è la gran parata di testa, ha cercato il missile col mancino Varutti gli ha negato la gioia del gol, testa con un grande intervento altro pallone dentro l'area di rigore, la spizzata di Vieri, Scanetti, attenzione va giù calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore parto di Scanetti, l'ha reso, 1-0 Prato da Scanetti, il gol che serviva, il gol che può mandare il Prato in paradiso, 1-0, 1-0 in 9 contro 11 Scanetti, una responsabilità enorme si è preso, un macigno sulle spalle, l'ha sopportato l'ha messa dentro, 1-0 Attenzione a Di Francia, area di rigore ancora di Francia, che arriva sul fondo, no, Stamila incredibile, incredibile il gol di Stamila, non ci credo, non ci credo il gol di Stamila Schenetti, palla per Vieri, ancora non è finita, Vieri, la può mettere in mezzo colpo di testa, poi arriva Varutti, prova a girarla, Varutti, 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 Varutti 2-1, non finisce mai questa partita, non finisce mai, non finisce mai, 2-1 incredibile, da infarto, da infarto, non finisce mai